Perchè sono, vedi, il numero uno, no, di un paese, come Iri, come tutti quelli che ci hanno stato, non preso una parte pure, non so abboccato nulla con vacca, canno lo so abbucca, no, perchè è meglio andare. San Mauro e Corleone. Un paese, guarda, calzate, manido, non ti preoccupo, non porteri i sei, allora, ma non sa, non beh, io sei buco. Allora, sei buco. Solo per l'amico *** sono io, io, per l'amico *** sono io, perché ce ne sono? .. .. .. .. .. .. .. faccio che c'è questo vado a voler a fare No, non c'è nessuno, io ho cominciato a sbagliare la parola, non c'è capo bene. C'è un zimo paese, non fai così, fai così. Io pure non ho scippato il pugnato, sai? Poi non ho visto l'artista di me. Mi ha vinto, ho vinto, tutti i cosi ho vinto. Tutti i cosi ho vinto. Non ti capisco, non ti capisco. Non ti capisco, non ti capisco, non ti capisco. Ma tu capisco per zadar. Non c'è capisco, non torno a pope. No, non c'è capisco, non damage, mi s буквam. Non mia via la sesame. Non mi ha disba. Non mi va, non mi va, non mi va, non mi va. Amolet, non va? Amolet, non va. Non va a molto, non va. Non va, non mi va, passa. �очно la città cambia non ti non è vicino non è veramente autbaricato quattro adesso andate si vanno accoggiato, e ora si è arrivato nel camino, ma si fa 50 o 2 metri, per il pennello che vado a entrare, un'altra cosa che ha, e si vanno a guardare un'altra cosa, e abbiamo un'esercizio, Poi, allora, però se fai in quanto? No, no, se vuole andare a fare tipo un cinto, sei, poi qui... secondo me, ho trovato il fatto che, prima sarà di vedere se questa foglia non cresce, questa pianta non è, secondo me è il cavolo sacro, la non ha fatto, quindi se c'è stato un'acqua, un'acqua ci ha sperimentato. e ora, in quel momento, il 12, un'acqua ci ha detto, un'acqua è visto. E' un'esercizio, tu hai scoperto, e poi, ma io, ho trovato il 9, e poi ci ho trovato la nuova. No, io non ho trovato più il cavolo, ma è un 9, allora, il 12, non ho trovato i 9, quindi, l'occhio è un 6, io... Grazie.